senti pulce io ti aspetto qui si va bene allora facciamo così non mi muovo fino a che tu non esci resto qui va bene ciao resto qui io sto qui invece di stare in ufficio perché in questo momento della fusione non me ne frega niente quella è la scuola di mia figlia e io voglio stare qui vicino a me fine suo fratello sta rischiando di diventare più famoso di lei ma che senso i paladini della scuola non è suo fratello paladini quello della scuola che tu stai bene seduto tutto il giorno su una panchina davanti a una scuola non sto seduto qui tutto il giorno mi muovo esattamente la mamma come ha morto quando è successo era sola in casa con la figlia e questa è una buona domanda ragazzi talmente come sta la signora che è salvato e tu che ne sai lo so cosa è successo di preciso quando lei e suo fratello siete entrati in acqua tu ti hai inventata questa storia della gita a rocca mare perché dovevamo guardare in faccia al trauma e ora ci lasci da soli maledetto pure tu devo pensare il futuro di questo bambino devo affrontare la situazione con questo pezzo di merda scusate se mi hai fatto aspettare così tanto puoi metterteli tutti nel culo per favore claudia andiamo devi respirare però se soffi per vincere doveva scegliere il modello cattolico e quale sarebbe adreta padre figlio e spirito santo e il terzo chi è cosa facciamo tutti che fine fa il figlio e il terzo chi è cosa facciamo tutti che fine fa il figlio grazie a tutti